oreo jungle ecco così hai la giusta dimensione della salita occhio e perché ti appoggia dietro a detta del patato questa è la salita più difficile di orso no anche per chi appoggi qua il paramotore bello bello ce l'avevi fatta ok e la salita patato è andata grande comunque la salita patato è andata tos 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 tos